Non c'è altro nell'enciclopedia dei mostri. Forse c'è ancora una cosa che possiamo fare. Vai con la spa! Le spa sono nate proprio sull'isola Zannardente come rituale annuale dei draghi. Non c'è niente come una bella artiglicur per curare la tristezza di un drago? Questa zampicura è da morire, ragazzi. E posso sentire il veleno di Viverna a sciogliermi tutti i calli. È questo quello che volevi, Wazzi? Lo smalto di lava! Attenti! Lo smalto di lava per magia e il solvente incantato lava via! Oh, Wazzi, sei di nuovo tanto triste. È come se avessi il cuore masticato. Sai, Frankie, penso che la parte di drago di Wazzi voglia ancora partire, ma il resto di lui vuole rimanere con te. Quello è decisamente lo sguardo da ti voglio bene e non voglio fare niente che potrebbe farti stare male. Ma se ha ancora bisogno di cose da draghi, vuol dire che io non sono abbastanza. Che sono l'amica mostro sbagliata per lui. Wow, 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 wow! Solo perché il tuo amico ha bisogno di qualcos'altro, questo non vuol dire che tu sia sbagliata. Sì, nessuno può essere tutto per qualcun altro. Nemmeno io! Forse avete ragione. Cioè, voi due siete le mie migliori amiche, ma se voglio andare in spiaggia ci vado con Laguna, perché Draculaura ci mette una vita a mettersi la crema. O se voglio giocare ai videogame, preferisco farlo con Guglia, perché voi due parlate sempre durante il gioco. Abbiamo capito, Frankie. Anche se mi farà male stare distanti, so che è la cosa giusta, perché ti voglio bene. E non voglio che tu faccia qualcosa che ti fa stare male solo per non far soffrire me. Wazzi Stein, amico, fedele e compagno di follie scientifiche. Voglio che adesso tu parta per la migrazione. Io starò bene, ok? Niente può farmi stare meglio che sapere che tu sei felice. No, 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 no.